Il Veneto si prepara a celebrare il 24 marzo, prima domenica di primavera, la giornata regionale dei Colli Veneti, dedicata alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio collinare Veneto sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico, storico, culturale, produttivo, sportivo ed enogastronomico. La giunta regionale, su proposta dell'assessore al territorio e alla cultura, Cristiano Corazzari, ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti nell'ambito della giornata regionale dei Colli Veneti 2024. Lo stanziamento è di 150 mila euro e sono previste due linee di intervento. La prima, per 50 mila euro, riguarda l'attività di coordinamento generale, riservata a programmi di ampio respiro che coinvolgono l'intero territorio, mentre la seconda, per 100 mila euro, è dedicata a progetti distribuiti localmente nelle diverse aree collinari del Veneto. Dopo il successo delle scorse edizioni, torna per il terzo anno la giornata regionale dei Colli Veneti, interviene l'assessore regionale Corazzari, una bella iniziativa dedicata alle nostre colline, alla valorizzazione di queste aree preziose, non solo dal punto di vista paesaggistico e naturale, ma anche secondo l'aspetto economico, delle tradizioni culturali e dei prodotti locali. Si tratta di un'iniziativa che è stata apprezzata nelle due passate edizioni e sulla quale la regione crede con spirito di valorizzare il territorio e far vorirne lo sviluppo sostenibile. Per quest'anno si è scelto di stanziare ulteriori risorse per l'iniziativa, che per l'edizione 2024 può contare su un budget di 150 mila euro. L'invito è rivolto a associazioni, enti, soggetti privati a collaborare per organizzare questo appuntamento e ai Veneti per partecipare numerosi. L'avviso è dedicato agli enti locali, a enti pubblici, ma anche a soggetti privati del territorio. Il termine per la presentazione delle proposte è il 15 febbraio. Le domande vanno presentate secondo il modello scaricabile dalla sezione dedicata del sito istituzionale della Regione del Veneto.